Fili di nessuno, anche al digiuno sappiamo marciare. Grande festa a Casoni di Mussolente per i 60 anni di matrimonio di Guerrino e Francisca Busnardo, un amore nato in Svizzera più di mezzo secolo fa. Come sono stati questi 60 anni di matrimonio? Benissimo, molto bello perché lui è stato sempre molto bravo. Anche lei però? Sì, sì, anche me. Tutti e due. Un amore lungo 60 anni, tanti l'auguri a Guerrino e Francisca, figli, nipoti, gli alpini del gruppo Casoni, ma anche il sindaco di Mussolente. È una testimonianza vera, di amore vero, in questi anni dove magari non è proprio così. L'esempio di Francisca e di Guerrino è un esempio per tutta quanta la comunità, non solo quelle di Casoni, non solo quelle di Mussolente, ma per tutto quanto il territorio. Per cui mi viene da dire altri 60 anni insieme. Grazie. Grazie.